Yassar Beher è stato per 15 anni giornalista dai territori occupati, poi ha iniziato ad occuparsi di diritti umani, di tutti i problemi legati all'informazione, in un mondo difficile come può essere Israele. Crede nella convivenza fra israeliani e palestinesi, pensa che la stampa sia fondamentale nel processo di pace, da un lato raccontando le cose per come sono, dall'altro controllando gli editori e quello che fanno. Soprattutto crede che i giornalisti israeliani e palestinesi debbano lavorare assieme. È necessario, non è facile, ma è necessario. E abbiamo il dovere di dirlo. Resta un problema, anzi il problema. Come reagisce la gente all'idea di un processo di pace sempre più lontano? Siamo nel momento peggiore nelle relazioni fra le persone palestinesi e gli israeliani hanno perso la speranza della pace, hanno perso la fiducia e non c'è una leadership capace di rinnovare questo processo. Non possiamo sognare che si rinnovi questo processo di pace se non c'è un cambiamento nel modo di affrontare il discorso sui media e nella politica. e la discorso di media prima di tutto. Grazie. 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 Grazie.